Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay E con un nuovo gioco, ovvero Davy Gravity Questo gioco è stato pubblicato nel 25 luglio 2011 E' un indie, e' un classico piattaforma d'azione Se possiamo dire anche un rompicapo Comunque non vi ho aspettato che sia un grande gioco Però a me piace, quando l'ho preso comunque a me piaceva tanto Cioè ho visto i gameplay, cioè veramente delle recensioni E ho visto che comunque non è male come gioco e volevo provarlo Infatti l'ho provato e come leggete avevo già startato una partita Però vabbè ci ho fatto 1 o 2 partite per capire comunque i comandi Questi sono i primi comandi Ovvero che posso muovere la mia arma con il mouse Poi vabbè jump, ovvero con space o doppia con quelle che preferisci Puoi fare anche doppio salto se vedete Ora Aim with the mouse Hold down the left mouse button to fire Credete? Io non so un cazzo d'inglese Quindi lasciamo stare Sto leggendo però non sto capendo un cazzo Sicuramente non ho letto nemmeno bene Comunque come vedete Noi ci possiamo Ora non ci ho colpi cosa succede Ok per distruggere Il cecchio basta premere qua Ora noi possiamo distruggere il cecchio che non ci serve Perché noi lo possiamo sparare una alla volta Da come ho capito Allora Ora per andare lì sopra Dobbiamo fare così Facciamo 1 2 E pallina E siamo morti Già dall'inizio Ok Andiamo bene Allora Mi sono Letteralmente ucciso da solo Allora Proviamoci ragazzi Possiamo riuscirci Ok perfetto Ho capito come si faceva Possiamo distruggere anche quello Ora possiamo usare anche l'altra arma Che ci fa Aspetta dobbiamo Destroy Ok Questa invece ci spinge Come vedete E infatti ci ha portato qui giù Ora possiamo anche distruggere la palla Ora facciamo 1 2 E ci ha teraportati qui Ah Poi dobbiamo Usare questo scudo Che comunque Questi cerchi e cose così Non ci fanno danno Grazie a Quell'armatura Non so cosa sia Di preciso Comunque questi sono i comandi del gioco Con il tasto sinistro Con il tasto sinistro Creiamo Cioè una Una gravità Cioè questa è una gravità Invece questa è un'antigravità Che ci spinge giustamente Con la Q eliminiamo la gravità E con la E Possiamo eliminare l'antigravità Con space o jump Possiamo comunque saltare E con S Come vedete usiamo questo scudo Che non ci dà problemi Oppure Shift è la stessa cosa Come preferite Comunque andiamo avanti Ora ci serve Oh Oh Mi uccidevo da solo Perfetto Proviamo allora Oh Bravo Se iniziamo bene Iniziamo veramente bene Allora Proviamo Ok perfetto Possiamo distruggere Ora cosa dobbiamo fare Se non mi sbaglio Potremmo saltare Su questo Però Sì Mi ricordavo bene Ok perfetto Questo non lo so se posso Però Ok ok Ho sbagliato E smettila di sbagliare Che bello Sto saltando Uno Bravo Devi fare sempre così Avevo fatto una cosa epica No io devo fare le cazzate Invidiato Sempre così devo fare Comunque giustamente Ci sono Dei salvataggi In alcuni punti Che così Non dobbiamo fare Tutto il livello All'inizio sono semplici Quindi Non ve lo occupate Solo all'inizio Saranno semplici O almeno credo Io Non mi ricordo Fino a quanto ho giocato Quante palle ho dovuto sparare Verrà Ok Ho imparato a volare Ok Ora non so cosa Dobbiamo fare Comunque Dobbiamo passare di qui Probabilmente Ah Questa parte l'ho fatta Perché mi ricordo Ci ho giocato fino a qua Se non sbaglio Fino a questi livelli Basta che saltiamo Su queste palline E andrà tutto bene O almeno spero Allora Cerchiamo di non Non cadere giù Perché Dobbiamo fare tutto da capo E non vorrei Sai Fare tutto da capo Sei un maledetto E ora Vaffanculo Rifare tutto il livello da capo Cioè no Tutto il livello Questa parte Che è noiosa Un po' Come vedete Cerco di rimanere Anche qualche pallina Dietro C'è davanti Così In caso Di emergenza Posso saltare Che anche Anche se si è allontanato Un po' troppo Ti odio Ti ammazzo la mamma Le mamma Ok Dobbiamo riuscirci Adesso Sperando che ci riusciamo Non moriamo Come dei pesciolini Ti odio Mi ammazzo la mamma Perché devo fare le cagate Dai dobbiamo fare solo questo Fino alla porta Non è così difficile Non dovrebbe essere così difficile Vai Dai che ce la posso fare 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 Ok guarda Siamo vicini Siamo vicini Mio dio Non so cosa ho fatto Ma va bene Va bene così Basta che siamo passati avanti Prima che Tentavo il suicidio Allora Ok questo attira Ok perfetto Ora possiamo togliere Questa palla Ok sarà un po' difficile Ok Ma è che dovrebbe essere facile Vai vai Ora ci morivo Sai Ho dimenticato Disattivare lo scudo Ora non lo posso disattivare Ok non lo posso proprio disattivare Quindi questo è un livello Abbastanza difficile Quindi ci servirà probabilmente questo Quindi Vediamolo qui Disattiviamo questo Ti odio Ti odio ancora di più Perché sto facendo cagata assurda Mi serve questo Perché a me Perché queste cose a me Che facciamo Così facciamo prima Prima che succeda qualcosa E moriamo Come dei stupiti Ti odio Che ecco Come dei Vbupi Cuore Che Abinore Perché Come dei Di Che 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 E' pure un masochismo Andiamo, possiamo farcela Dai, possiamo farcela Ok, possiamo lasciare questo Ah, ok, questo serve per spingere Questi oggetti, probabilmente Che sono parecchio pericolosi Probabilmente Ho ancora di attirarli Tutti in un po' Questo mi ammazza Ok, ho passato Un altro capitolo Sì, e io come ci passo all'interno? Ah, ecco il gioco Ok, zattiviamo questo Ok, perfetto, sono Sono un genio Scherzavo, stavo scherzando Guarda, non volevo offenderti Dai, che possiamo farcela Dai, che possiamo Ok, perfetto Zattiviamo quello Ora cosa dobbiamo fare? Ok Vaffanculo Ok Ok Possiamo riuscirci ad andare avanti Cioè, riusciremo ad andare avanti Anzi, una domanda Ti odio Maledetto Dai, passa avanti Passa avanti Possiamo farcela Ok, passiamo questo ora Basta che facciamo la palla Qui Non voglio morire Sei così lento Che mi viene voglia di ammazzarti Perchè ho sbagliato? Perchè sbaglio? Ok Dovremmo farcela Dai Ora Dobbiamo saltare Su questa pallina Non è vero Non dobbiamo fare così Questa si chiama Suicidio Anche questo Ok Dobbiamo farci portare Il più avanti possibile E poi usare Ok Ora siamo bloccati Qui dentro Dobbiamo aspettare Che esce la prossima palla Noi ci salteremo sopra E abbiamo fatto GG WP Va bene Dai ragazzi Ci fermiamo qui Ditemi se questo Gioco vi piace Anche questo episodio Vi è piaciuto E fatemi sapere Se questo gioco Devo continuarlo Perchè a me piace Non so Poi dovete vedere voi Comunque è un piattaforma Classico E anche un indie Quindi non è Un grande gioco Però Molto divertente E anche un rompicapo Se ci avete fatto caso Comunque devi Vedere come Arrivare Nella porta E passare comunque Il livello avanti Comunque dai Ci sentiamo nel prossimo episodio Spero anche Un altro episodio Di questo gioco Ci vediamo alla prossima Ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti